...d'Italia, questo è Tino Rolli che dà il via, era il direttore di corsa e dà il via per l'ultima tappa che porta il Giro d'Italia a Milano, questo è Raffaele Gemignani, uno dei grandi protagonisti, Gastone Nencini in maglia rosa, questa volta la maglia rosa è sua sino all'ultimo traguardo, come si è detto la tappa di Levico, ecco queste sono le immagini della tappa di Levico vinta da Charlie Gaul che vince questa tappa dopo aver fatto questo regolamento di conti con i francesi, ma siamo verso il gran finale di Giro, ormai più nessuno può portare via la maglia rosa, vedete Gastone Nencini che arriva con Baldini, con Gemignani, con gli altri protagonisti della tappa e due anni dopo questo furto che aveva subito Nencini nel 55.